Ciao, sono Carolina Benvenga, ho 32 anni e sono una attrice, conduttrice e cantautrice. Carolina, ma tu ci pensi mai che probabilmente i bimbi di oggi un giorno parleranno di te con nostalgia? Non so, come noi oggi parliamo della posta di Sonia magari? Ma sì, ci penso spesso e questa cosa mi riempie in realtà di orgoglio, perché se io penso a Sonia, penso che è stata la mia infanzia e della mia infanzia penso benissimo. Quindi io spero di rimanere nei loro ricordi in questo modo così totale e dolce, così come Sonia lo è nei miei. Beh, direi di sì. Senti, a proposito di idoli dell'infanzia, i tuoi quali erano? Valgono anche le Spice Girls, eh? No, allora io non avevo boy band o altro, io in realtà andavo più per Lorella Cuccarini, Raffaella Carrà, andavo più per le She Girl italiane, ecco, quelle erano i miei veri idoli. Facevano un po' tutto, erano in televisione ma cantavano, ballavano, erano simpatiche, erano intraprendenti, intrattenevano il pubblico, ecco, questa cosa mi ha sempre affascinato. Tu hai esordito facendo l'attrice, eri anche brava. Poi a un certo punto è subentrato questo ruolo, diciamo, nella tua vita molto insolito. Ecco, oggi rimpiangi mai la carriera di attrice, intesa proprio come cinema, serialità e via dicendo? Allora, no, perché in realtà continuo tuttora a farlo e anche per esempio alla guida della posta di Yo-Yo è un programma in cui di fatto, è vero, mi chiamo Carolina, sono Carolina, però è normale che un minimo bisogna recitare un piccolo ruolo più adatto ai bambini e che comunichi con un vocabolario più adatto ai bambini, che non è lo stesso, che ovviamente uso a cena con i miei migliori amici, dove siamo tutti, diciamo, over 30. Però, diciamo che no, non lo rimpiango, il mio, chiamiamolo così, precedente percorso, perché al di là del fatto che nulla mi vieta di ritornare su quella strada un domani, però no, perché mi trovo molto bene, nel senso ho creato questo piccolo microcosmo che sta in realtà diventando macrocosmo ed è tutto mio ed è fatto su misura per me e da me e quindi questa cosa mi piace molto, cioè mi piace pensare di aver creato una cosa unica tutta mia. Non ti capita mai di stufarti di interpretare il buon esempio per i bambini? Penso alle ex reginette Disney che a un certo punto hanno tutte dato un po' di matto, no? Ma, probabilmente perché non erano se stesse, nel senso che ovviamente dove erano costrette, forse non le conosco personalmente, però forse erano costrette ad interpretare un ruolo molto distante da loro. Io in realtà non mi sforzo di essere quella che sono, io sono esattamente così, mi trovo molto bene perché questo è il mio modo di fare, questo è il mio modo di essere, questo è il mio modo di interagire con le persone, con i bambini, la mia etica è questa, il mio essere, il mio pudore è questo. Io, insomma, è difficile che tu possa vedermi su una copertina mezza nuda perché non sono proprio io e non ci sarebbe niente di male, ma mi vergogno, quindi diciamo che sono proprio io che sono fatta così, quindi sicuramente è un ruolo, se così lo vogliamo chiamare, che però mi calza perfettamente in cui io mi sento a mio agio, quindi no, non mi stufo perché non posso stufarmi di essere me stessa. Lancia una provocazione, tu sei bellissima, solare, piena di energie positive, sui social vai anche alla grande, a fare l'influencer classica diciamo avresti trovato la strada spianatissima, è una tentazione a cui hai resistito o è qualcosa di lontanissimo da te? Ma guarda, è che il mio mestiere è proprio un altro, nel senso io non faccio l'influencer perché in realtà la mia vita è già fortunatamente pienissima di tutto il resto, di tutto quello che è appunto il mio lavoro, tutti i video, tra l'altro dei video io curo sia la pre che la post produzione, che sono cose che poi non tutti sanno, però in realtà io non mi limito esclusivamente ad interpretare il video, ma poi c'è tutto un lavoro a margine prima e dopo che seguo al 100%, per non parlare poi appunto dei programmi, tutta la produzione, tutta la preparazione, quindi in realtà il mio mestiere è un altro e quindi non me lo sono neanche mai chiesto se devo essere sincera. Se possono capitare probabilmente delle collaborazioni che scelgo insieme al mio team in modo assolutamente minuzioso, benvengano, però io personalmente non è la mia prima strada, quindi non è neanche la mia prima scelta o non è neanche una cosa che mi manca. Per chiudere il cerchio, noi oggi di Sogna ricordiamo con affetto la canzone della Buonanotte, poi c'è il fatto di Mucciaccia, la Merevisione e via dicendo. Secondo te qual è il dettaglio magico che stai seminando tu? Sicuramente l'allegria, l'allegria è ciò che semino, le mie canzoni sono tutte delle piccole hit, dei piccoli tormentoni che rimangono nelle orecchie, nel cuore dei bambini e delle loro famiglie, perché sono molto contenta di vedere che poi alla fine è un prodotto che prende tutta la famiglia, non prende solamente i bimbi, perché diventano dei piccoli momenti di condivisione familiare e questo poi è il mio obiettivo principale. E infatti la cosa che mi piace molto è che riusciamo attraverso le canzoni ad accompagnare i bambini un po' in tutto il loro percorso, dall'inizio alla fine, durante tutte le varie stagioni, anche quella invernale, il Natale ad esempio, che è un momento in cui creiamo delle canzoni o dei prodotti ad hoc per accompagnare le famiglie e i bambini all'interno del periodo natalizio. Per esempio quest'anno abbiamo messo in piedi questo bellissimo spettacolo che si chiama appunto Un Natale Favoloso a teatro, dove io toccherò in un mesetto più o meno una quindicina, 10-15 città italiane e dove interpreterò questa piccola favola natalizia e dove insomma abbiamo già messo insieme tantissimi partecipanti che vedranno e si godranno uno spettacolo totalmente natalizio. E poi accompagno i bambini un po' anche nella loro crescita non solo ludica, ma anche diciamo cercando di accompagnarli su un percorso di conoscenza dell'ambiente, dell'ambiente circostante. In che modo? Anche attraverso ad esempio dei libri, uno dei miei ultimi libri, anzi il secondo mio libro che è uscito da poco, che si chiama Il girotondo delle stagioni, è un libro che parla sì delle stagioni, ma parla delle stagioni raffigurate come bambini e quindi ogni stagione ha delle caratteristiche differenti, così come tutti i bambini hanno delle caratteristiche differenti e quindi affrontiamo e analizziamo i diversi caratteri di tutti i vari bambini, da estate che è la bambina più estroversa, più positiva, più propositiva, a inverno che lo raffiguriamo come un bambino un pochino più timido, un pochino più introverso, anche più sensibile rispetto per esempio agli altri e così via. E parlando delle stagioni parliamo quindi anche della natura e quindi cerchiamo, in questo caso cerco, di sensibilizzare i bambini ad amare l'ambiente, la natura e a rispettarlo. Perché probabilmente cercando e partendo dai bimbi nell'educazione ambientale non solo, riusciremo poi ad avere degli adulti più competenti e più responsabili dell'ambiente che vi circonda. E a proposito di canzoni, ci lasci il tuo podio personale, tre brani che senti proprio tuoi? Allora, le mie tre canzoni, le prime che mi vengono in mente, che adoro, sono sicuramente Vivere a colori di Alessandra Amoroso e Mi fiderò di Marco Mengoni e Logico di Cesare Cremonini. Ciao, grazie mille. Grazie.